Guido Guidesi, è notizia delle ultime ore che sta arrivando una circolare da parte dei prefetti e i comuni per accogliere i profughi che stanno arrivando sulle nostre coste? Siamo alle solite, in questo paese si è trasformata la prefettura che è un ente assolutamente inutile in un'agenzia di viaggio per far soggiornare gli immigrati clandestini negli alberghi di lusso a spese di tutti i cittadini, di tutti i cittadini onesti, disoccupati e casse integrati. E' una cosa che non possiamo accettare, sono due settimane che chiediamo al Ministro Alfano di venire in aula, è ora che venga ed è ora che questo governo se vuole tagliare gli sprechi cancella immediatamente le prefetture.